Il 2013 potrebbe essere l'anno della svolta per la Banca di Pistoia, quello dell'uscita da un tunnel lungo quattro anni. Il pareggio di bilancio potrebbe arrivare già entro l'anno. Se le condizioni dell'anno 2013 si mantengono positive come questi primi mesi, addirittura forse anche dallo stesso 2013 potremmo ritornare in bonus. Però questo non bisogna dimenticare la situazione generale. La crisi generale condiziona molto i nostri clienti e condiziona la nostra banca per la quale ci adoperiamo al massimo. Il conto economico dell'anno si chiude con un disavanzo di 5 milioni e mezzo di euro. Un passivo hanno spiegato i vertici della banca non legato alla gestione ma al passato in primo luogo alla crisi del settore immobiliare. La reale natura di questa perdita trae origine esclusivamente da 14 milioni e quasi 14 milioni e mezzo di accantonamenti e svalutazioni che abbiamo fatto nell'esercizio 2012 per sopperire alle svalutazioni di crediti antichi concessi negli anni precedenti. La conferma del buon lavoro della banca hanno sottolineato i vertici dell'istituto di credito sta nei dati dell'ultimo quadriennio. La raccolta diretta è in crescita di oltre il 14%, l'incremento del 30% dei crediti e della compagine sociale. Bene sono andati anche i primi mesi dell'anno in corso con l'aumento sia della raccolta diretta che di quella indiretta. La nostra è una forza particolare come tutte quelle delle banche copredenti. Abbiamo un organico di dipendenti competenti, professionalmente preparati e molto attaccati alla banca che sono radicati sul territorio principalmente con l'altra componente positiva della banca, cioè i soci che sono fidelizzati e danno fiducia alla loro banca e trovano la loro banca soddisfazione. E questo è anche lo stimolo che sentiamo come consiglieri per mettercela tutta per portare in fondo la soluzione in positivo.